Detroit è fallita. Dopo mesi di duro lavoro per salvare l'economia della città schiacciata da un debito tra i 18 e i 20 miliardi di dollari, Kevin Orr, nominato commissario straordinario lo scorso marzo per esautorare sindaco e consiglio comunale, ha annunciato la sua resa in conferenza stampa e il governatore del Michigan, Rick Snyder, ne ha preso atto pubblicamente. Oggi ho autorizzato la città a chiedere la protezione federale per la bancarotta, ha detto Snyder. È stata una decisione difficile e dolorosa, ma non c'erano altre soluzioni percorribili. Il crollo economico della Motor City, simbolo americano dell'auto, sede di General Motors, Ford e Chrysler, le tre grandi case a stelle a strisce, è la più grande richiesta di fallimento mai presentata da una città nella storia americana. Il presidente Barack Obama segue attentamente, assieme ai suoi stretti consiglieri, la situazione di Detroit, ha fatto sapere oggi una portavoce della Casa Bianca, aggiungendo che l'amministrazione Obama rimane impegnata a lavorare per far sì che la città ritorni a crescere. Eppure Orce aveva provato in tutti i modi ore di trattative al tavolo con i creditori per convincerli ad allentare la presa con i sindacati per provare a ottenere un via libera, taglie del personale e riduzioni delle retribuzioni. Una resa dal sapore ancora più amaro perché arriva in un momento in cui il settore dell'economia privata dà segni di ripresa, come anche quello immobiliare. General Motors, Ford e Chrysler sembrano fuori dal tunnel, i contratti giravano di nuovo. Il New York Times due giorni fa parlava della nuova Jeep di casa Fiat Chrysler, destinata a portare nelle case quasi 2 miliardi di dollari. Soddisfatto di come vanno le cose, tutto sommato lo è anche Sergio Marchionne, presidente e amministratore delegato del gruppo Fiat e Chrysler, che a Detroit ha messo radici, comprando nel febbraio 2012 due case milionarie con vista a raghetto nella contea chic di quella regione disastrata. Ma a pesare sulla bancarotta della capitale dei motori e della musica nera, qui è nata la mitica etichetta Motown, è anche una pessima gestione delle finanze pubbliche, dovuta alla corruzione politica, alla desertificazione dei quartieri, soprattutto quelli periferici e dei soborghi, dagli oltre 2 milioni negli anni 90 ai 700 mila di questi giorni. Dati non solo economici, come anche il tasso di omicidi che è arrivato al massimo in 40 anni e che da 20 anni hanno fatto di Detroit una delle città più pericolose d'America. Una crisi che parte da lontano, già nel 1989 il filmmaker da Oscar Michael Moore raccontava in Roger and Me, il suo primo film inchiesta, la crisi della General Motors e della chiusura della fabbrica di Flint, sua città natale, nella cintura di Detroit. Una storia di operai, famiglie disastrate e miseria non molto diversa da quella di oggi.